L'hanno salvata per un soffio i medici del pronto soccorso pediatrico del civile con l'aiuto dei carabinieri del radiomobile di Verola Nuova, una bambina senegalese di 4 anni che aveva ingerito diversi flaconi di medicinali e anche alcune parti delle confezioni. I genitori l'hanno portata via dall'ospedale prima che potesse vederla uno specialista e questo ha fatto scattare l'allarme degli altri medici della struttura che hanno chiamato i carabinieri. Tutto è accaduto ieri sera attorno alle 21. La famiglia straniera si è presentata in pronto soccorso spiegando che la piccola aveva ingerito diversi farmaci e anche parti delle confezioni. Dopo la prima visita è stato chiesto l'intervento di una specialista ma nel tempo dell'attesa, con la scusa di andare in bagno, tutti e tre hanno lasciato l'ospedale. Appena si sono accorti dell'assenza, i medici e gli infermieri hanno lanciato l'allarme comunicando ai carabinieri il numero di cellulare lasciato dal padre all'accettazione. Utilizzando il sistema di localizzazione rapida del 112, i militari hanno rintracciato la vettura della famiglia nella zona di Verola Nuova e l'hanno bloccata. La bambina è stata immediatamente trasferita al civile. I medici hanno riferito che la piccola è stata rintracciata appena in tempo. Sottoposta ad urgenza ad una lavanda gastrica non è ancora fuori pericolo ed è probabile che nelle prossime ore possa essere sottoposta anche ad un'operazione chirurgica.